C'è assurdo, come dopo due anni quasi che ci siamo lasciati, ancora devo essere insultata e sono una gioia e sono una gruppi del cazzo e faccio la p***a. Ma ragazzi, ma ragazzi ma andiamo avanti nella vita, mannaggia il clero, cioè, boh, siamo fermi sempre sulle stesse robe raga, cioè. Eh, poi se mi sono appena svegliata, appena svegliata, mi hanno mandato in 3000 la storia, ora non so se l'abbia tolto o meno. Ma ragazzi, ma datevi una svegliata, c'è il mondo fuori, ok? Non ci sono solo ste robe da mettere sui social per screditare la tua ex e basta, ok? Solo perché tiro del culo e non vai avanti nella tua vita di merda perché non trovi una tipa con i coglioni che ti dice le cose e che è una tipa con la testa che ha la testa, capito?